Noi ci troviamo all'interno della capannona per la pitturazione, uno dei due capannoni che sono in costruzione e questo è ormai praticamente finito, mancano gli ultimi dettagli all'impiantistica e noi saremmo in grado di entrare con il primo yacht all'interno di questo capannone entro la fine del mese di gennaio. Quindi i lavori che termineranno entro la fine di gennaio, fino adesso com'è stato il ritmo dei lavori? Per quanto riguarda i lavori di strutturazione sono andati avanti in maniera eccellente, a parte il ritardo dovuto al lockdown della scorsa primavera, le ditte impegnate hanno lavorato senza sosta neanche a cavallo di ferragosto e quindi siamo fortunatamente in grado di poter iniziare a lavorare a breve. Il cantiere attualmente è in lavoro, continua anche la sua attività standard? Contemporaneamente è l'attività di strutturazione e di ultimazione dei capannoni, noi abbiamo attualmente 12 imbarcazioni la cui lunghezza varia dai 30 ai 50 metri, quindi parliamo di grandi yacht ai lavori e altre due imbarcazioni grandi, un 40 e un 50 metri in arrivo breve.